Immergiti nel grande racconto del brigantaggio meridionale, vivi le sorprendenti e sempre nuove proposte del mondo rurale, ascolta le voci e suoni della natura, respira le emozioni degli antichi sapori, scopri la bellezza del territorio, unisciti al viaggio attraverso l'antica storia del mondo lucano. Troverai un suggerimento per guardare con occhi nuovi al futuro. La Grancia, in Basilicata, un parco di emozioni.